cara teste ferite buongiorno buon venerdì bentornati a questa rubrica video che oggi è dedicata ad una cosa che mi è stata chiesta cioè come organizzare una biblioteca di classe efficace ho dedicato anche un altro video mi pare a questo argomento ve lo lascio nei commenti ma qui mi vorrei fermare soffermare su un pensiero specifico e cioè quando dobbiamo creare una biblioteca di classe da zero oppure decidiamo di riorganizzare lo scaffale che avevamo già con i libri credo sia assolutamente necessario ed essenziale coinvolgere i ragazzi e le ragazze i bambini e le bambine nel farlo perché il fatto che loro scelgano come catalogare e come sistemare i libri perché poi loro stessi possano ritrovarli e usufruire della biblioteca in maniera assolutamente autonoma credo che sia fondamentale e vi dirò di più è ancora più fondamentale quando poi si rendono conto perché a volte succede che la scelta che avevano fatto originariamente non funziona o non è funzionale come l'avevano pensata è una sperimentazione che permette di maneggiare i libri di prenderli in considerazione in un modo che probabilmente non avevano fatto prima possiamo dargli un'occasione davvero interessante da questo punto di vista quindi proviamo a fare questo esperimento noi pensiamo di avere uno scaffale in cui dobbiamo avere delle sezioni di libri ok o meglio in cui devono essere presenti varie tipologie di libri il che vuol dire la narrativa con tutti i suoi generi possibili e immaginabili la poesia gli albi illustrati i fumetti la divulgazione la divulgazione vuol dire scienza arte storia musica tutto quello che vi viene in mente quindi tutte le tipologie di libri possibili ed immaginabili per una fascia d'età che non è strettamente quella della classe per cui state lavorando ma va un po più giù è un po più su per poter garantire una scelta da parte del lettore della lettrice che corrisponda anche al suo stato d'animo cioè tornare un po indietro andare un po avanti rassicurarsi nel proprio stato squat qualcosa che ci metta al nostro agio come la organizziamo questa mole di libri allora secondo la mia esperienza quando si tratta di mettere insieme per esempio la divulgazione è tutto abbastanza più semplice cioè lo scaffale di divulgazione si separa per tipologia per esempio divulgazione di scienze divulgazione d'arte e via è abbastanza non non sempre sempre ma è abbastanza chiaro così come per la poesia così come per gli albi illustrati e i fumetti entriamo veramente nelle rogne quando andiamo a mettere mano nella narrativa perché di solito i ragazzi e le ragazze i bambini e le bambine preferiscono dividerla per generi ma non è così semplice individuare il genere d'appartenenza di un libro d'autore per esempio ci sono alcuni libri che davvero uno si domanda questo che genere quando ho fatto questo lavoro con una classe abbiamo cominciato a elencare tutti i tipi di generi li abbiamo messi ai voti abbiamo scelto un simbolo per ognuno dopodiché quando di fatto siamo andati ad appiccicare questo simbolo libro per libro essi sono aperti un sacco di discussioni ma è stato un tempo di crescita credo importante certo occupa del tempo me ne rendo conto un lavoro che si potrebbe anche fare in un orario extrascolastico se uno ha la possibilità oppure un lavoro che si può fare per esempio per creare una coesione tra il gruppo classe quando si ritrova all'inizio dell'anno si potrebbe fare all'inizio dell'anno per verificare se il tipo di organizzazione della biblioteca di classe che avevano fatto l'anno precedente regge ancora per esempio notato che moltissimi ci tengono a tenere insieme le collane per cui facendo anche la distinzione tra i generi di narrativa restano a parte le collane per cui tutta la collana faccio per dire della schiappa tutta la collana di harry potter tutto insomma le collane che ti fanno andare immediatamente lì a prenderli però è un tipo di lavoro interessante e non scontato per niente anche il sistema di catalogazione io lo scegliere insieme a loro potrebbe essere per esempio che ogni parte dello scaffale ha un suo colore o un simbolo che poi appiccichiamo sul col sulla costa del libro ma anche abbia come si fa nelle librerie nelle biblioteche normalmente le iniziali del nome delle iniziali del cognome e del nome in modo tale da avere la doppia catalogazione per autore e per genere nel nostro scaffale tutti i libri vanno poi ingressati anche questo è un lavoro che potrebbe essere interessante far fare ai ragazzi il lavoro prima di tutto è ingressare i libri cioè mettergli un numero nella nell'ultima pagina un numero che ci dica che fa parte di quel libro fa parte di quella biblioteca se ci abbiamo un timbro gli mettiamo pure il timbro che può essere tipo il timbro della scuola o può essere anche un timbro che si fa fare appositamente e che ci dice però che quel libro appartiene a quella classe poi ognuno sceglie se portando via la classe si porta via anche i libri quando finisce il ciclo questi libri che fine fanno restano di solito proprietà della scuola e della classe ma evidentemente ogni gruppo di insegni di bambini e bambine ragazzi e ragazzi ogni gruppo classe ricostruisce la propria biblioteca perché nel tempo i libri cambiano vanno aggiornati magari non vanno aggiornati tutti gli anni ma vanno aumentati o vanno tolte alcune cose vanno aggiunte altre vanno aggiornati insomma la biblioteca non è una cosa statica il lo scaffale dei libri di classe non è affatto una cosa statica ed è una cosa che si muove in continuazione poi facciamo un bel cartellone con le regole che non devono spaventare nessuno ma devono essere precise per cui come si prende il prestito quanto tempo lo puoi tenere ricordati di scrivere sul quaderno che lì a disposizione quando l'hai preso il libro così se qualcuno lo vuole sa chi andarlo a chiedere come si maneggiano per cui be careful please e anche la possibilità di scrivere per esempio dei desiderata o cosa molto bella si può fare anche un un pannello per esempio di sughero con le con le punese dove attacchi i bigliettini questo libro lo consiglio a e scrivi il nome del compagno e perché o non perché ma insomma lo consigli a qualcuno che non è nulla a che vedere con le schede di lettura che ce le eliminiamo proprio dalla mente come se non fossero mai esistite o altro sono proprio semplicemente un questo libro mi ha fatto pensare a questo compagno che secondo me potrebbe gradirlo tutto qua fine fine lì se poi avete voglia fotografate il libro e se avete come dire una forma digitale di comunicazione del vostro lavoro lo usate se no no naturalmente batti il muro che il sistema con cui lavoravamo con i ragazzi su instagram aveva questo tipo di abitudine ma è specifico di un progetto fatto doc ecco però secondo me così dovrebbe potrebbe funzionare la costruzione di uno scaffale una biblioteca di classe fatta con i ragazzi e le corse fatte insieme quando sono piccoli funziona uguale evidentemente l'insegnante avrà un pochino più di presenza bisogna anche vedere comunque questi sono i miei consigli secondo la mia esperienza raccontatemi le vostre esperienze ditemi se vi pare sensato sperimentare invece questo tipo di lavoro insieme condiviso con il gruppo classe ci vediamo la settimana prossima ci leggiamo tutti i giorni su testefiorite.it facebook instagram tik tok e venite ad approfondire con i corsi di testefiorite lab ciao